Screening per evitare nuovi focolai tra popolazione scolastica e contagi stabili. Il centro Abruzzo mette a referto altri due casi di Covid-19. Si tratta del 73enne residente a Raiano, ricoverato nella prima serata di ieri nelle malattie infettive dell'ospedale di Avezzano dopo la positività accertata nel nosocomio Peligno, e di un 30enne residente a Castel di Sangro. Due contagi che confermano la relativa calma nell'area Peligno-Sangrina, anche se ancora ad accertare l'entità dell'ultimo fronte che si è aperto a Raiano, per il quale si attende la conferma di altre positività rilevate con il test antigenico rapido. Al momento sembrerebbe che il virus potrebbe aver fatto breccia tra alcuni contatti conviventi del caso accertato, uno dei quali legato a un salone di parrucchiera. Come cliente, lì sono scattate le misure del caso in attesa della stabilizzazione del quadro epidemiologico. Il settanatrenne, all'esito delle verifiche, ha ricevuto anche la seconda inoculazione, nonostante il ciclo vaccinale completo e finito in ospedale, ma secondo i sanitari il vaccino li avrebbe evitato e ricovero in area critica. Le persone attualmente positive sul territorio sono 141, a fronte di altre tre guarigioni, mentre sale il numero di sorvegliati che tocca quota 250 più 14 rispetto a ieri. Questo vuol dire che la curva epidemiologica non presenta una vera e propria situazione di stallo. L'attenzione resta alta, soprattutto la vigilia della prima campanella per le scuole. Per gli alunni del Polo Video sonera già il 9 settembre. I comuni di Sulmone e Pratola si sono attivati per uno screening nel fine settimana, al fine di consentire un rientro in sicurezza, considerando che in Abruzzo oltre 32.000 studenti dai 12 ai 18 anni non risultano ancora coperti dal vaccino. Il dato da tenere sotto controllo è quello dei ricoveri, alla luce dei parametri per la classificazione delle regioni. Sono saliti a 7, come anticipato, i posti retti occupati per i pazienti del centro Abruzzo, tutti ricoverati non in area critica. Di questi quattro non sono vaccinati. Un dato in linea con il trend provinciale, il 70%, che conferma l'importanza della protezione. Infine il Comune di Pescassero li ha revocato l'ordinanza sull'uso obbligatorio della mascherina e la chiusura a mezzanotte delle attività commerciali in versione cenerentola. I focolai in alto sangro risultano infatti pressoché assestati.